La mattina praticamente l'opportunità del villaggio è stata intorno alle ore 10, siamo alle 13, abbiamo fatto tre ore di spettacolo, musica, divertimento, animazione, sto fermo, sento un po' che è umano, c'è niente di fare, ah, oh, dici che posso parlare? Bene, detto questo, detto questo, detto questo, ha espresso il suo pensiero, ha espresso il suo pensiero, ne prendiamo atto, va bene, comunque signori, domani speriamo che sia una bella giornata e migliaia di famiglie catanesi saranno a correre per il nostro centro storico di Catania, grazie agli organizzatori, grazie.